Scolaciumo che davvero significa per tutti noi la possibilità di riflettere sul nostro tempo sui uomini del nostro tempo sulla nostra storia, sulla memoria mettere insieme tutti quegli aspetti che ci consentono oggi comunque di dire che la Calabria ha la sua positività possibile al centro del dibattito nazionale ed oltre dibattito culturale naturalmente noi vi aspettiamo come sempre qui siamo già in tanti e tanti altri pomeriggi ci saranno tante altre mattine tante proposte tutte su www.terrediscolaciumo.com Ciao Caffè Amaro che è un libro di una storia siciliana del secolo scorso che potrebbe però appartenere a qualunque altro posto del sud dell'Italia